Gela si stringe attorno alle popolazioni del centro Italia, sconvolte dal violento sisma del 24 agosto scorso. Sono tante le iniziative promosse al fine di raccogliere fondi da destinare a chi in un attimo ha perduto tutto. Oggi dalle 16 in via Pisa, nell'ambito dello sperone arte, ci saranno le socie del Soroptimist. Venderanno degli oggetti e l'arricavato, come dicevamo, sarà destinato ai terremotati. E' un'iniziativa che rientra in un'iniziativa nazionale perché la raccolta, cioè quello che raccoglieremo, poi rientrerà nel circuito del Soroptimist International d'Italia. Noi venderemo dei prodotti che sono di vario genere, dagli oggetti per la casa, oggetti personali, bigiotteria, tutto quello che abbiamo potuto noi raccogliere, noi stesse soge del club, e qualche donazione è stata anche fatta. Il Comune di Gela ha subito sposato il progetto. I cittadini gelesi e i club service non si tirano mai indietro di fronte a dei momenti così importanti, di necessaria solidarietà tra i cittadini italiani e non solo. Questa è la dimostrazione, quindi invitiamo i cittadini gelesi a partecipare numerosi, a donare più che possono, seppur nelle ristrettezze nelle quali ci troviamo, perché la generosità, anche l'euro dato in beneficenza, in questo caso non può che aiutare i nostri fratelli delle zone colpite dal terremoto. Ricordiamo l'appuntamento oggi dalle 16. Oggi dalle 16, Sperone Art, Via Pisa, quindi nell'ambito di una bellissima manifestazione della lunghissima estate gelese. Grazie a tutti.